Si sono dati appuntamento un piazzale ricasoli davanti alla stazione per far sentire la loro vicinanza Reda, il ragazzo di 17 anni, accoltellato la sera del 27 febbraio su Porta San Pietro. Da lì, con un corteo silenzioso, sono arrivati fino al castello di Porta San Pietro, luogo dell'aggressione. I familiari del ragazzo, gli amici e i compagni di scuola hanno voluto così manifestare la loro solidarietà, ma soprattutto chiedere che vengano presi provvedimenti più severi verso l'accoltellatore, un coetaneo del ragazzo che si è già reso protagonista di episodi violenti in passato e verso il quale è stata notificata una denuncia a piede libero per tentato omicidio ed il foglio di via dal comune di Lucca per tre anni. Troppo poco, secondo i familiari del giovane marocchino, che si trova ancora in terapia intensiva all'ospedale di Lucca. Solidarietà a lui e chiedere giustizia perché vogliamo giustizia. Dei suoi amici ora è in pericolo, chiunque, perché ora anche i suoi amici che lo vanno a trovare all'ospedale. Questo tizio qui che ora è libero li minaccia dicendogli chiunque vada a trovare Reda ha un conto in sospeso con me. Le autorità per ora non ci hanno detto niente, non sappiamo niente, sappiamo solo che lui è libero, ha il foglio di via da Lucca per tre anni, per oggi era ancora a Lucca tranquillamente, senza controllo, senza nulla.